Proprio quando tutto sembra perduto, un gesto inaspettato da parte di Manuel capovolge completamente la situazione, lasciando Ximena e la Marchesa senza parole e costringendo tutti a riconsiderare le loro scelte. Riusciranno a trovare un terreno comune prima che la tensione raggiunga il punto di rottura? Manuel, con il volto segnato dalla stanchezza e l'espressione tesa, si avvicina a suo padre per confidargli il suo tormento. La luce soffusa nella stanza accentua le linee di preoccupazione sul suo volto mentre ammette di voler allontanare Ximena. Il Marchese, seduto con aria grave e saggia, ascolta attentamente. Con un tono paternalistico e un profondo senso di responsabilità, Ghiai consiglia di riflettere attentamente. Ricorda a Manuel che sono appena sposati e che hanno subito una dolorosa perdita, quella di un figlio e che la separazione potrebbe non essere la soluzione giusta. Manuel, però, è irremovibile. La situazione è ormai insostenibile e solo una separazione potrebbe evitare ulteriori danni. Suo padre, con uno sguardo che trasmette saggezza e preoccupazione, gli ricorda che le relazioni richiedono dedizione giorno dopo giorno e rivela che anche il suo matrimonio con Donia Cruz ha avuto le sue difficoltà. Nonostante le parole paterne, Manuel rimane fermo nella sua decisione, ribadendo che la separazione è solo temporanea, paragonandola alla situazione di Elena de Bourbon e Marie Chalard, che non sono mai tornati insieme. Nel frattempo, in un angolo soleggiato della fattoria, Catalina, con entusiasmo e orgoglio, mostra a sua zia Margarita i recenti miglioramenti apportati. Margarita, con un'espressione di frustrazione e stanchezza, confessa di sentirsi trascurata e non presa sul serio in un mondo dominato dagli uomini. Catalina, con una determinazione luminosa negli occhi, le consiglia di partecipare al ballo in maschera per interagire con banchieri e uomini d'affari, sperando di cambiare la sua situazione. La scena si sposta a una conversazione tesa tra Shimena e Han. Con il volto incupito dalla rabbia, Shimena sfida Han, chiedendogli se la sua decisione di andarsene sia collegata a Manuel. La tensione tra loro è palpabile, i loro toni alti e le parole taglienti. Manuel, entrando nella stanza con il passo deciso e lo sguardo risoluto, li interrompe. Han, comprendendo la gravità della situazione, si allontana per lasciare i due soli. Manuel e Shimena si confrontano animatamente sui costumi per la festa, le loro voci che si intrecciano in una discussione accesa. Romulo, con un'aria di autorità e decisione, assegna a Mauro l'incarico di preparare l'evento, ma ogni proposta di Mauro viene prontamente rimproverata con severità. Nel patio l'atmosfera è vivace, mentre Pia, Teresa, Ana e Maria Fernandez si dedicano a scegliere i costumi per Margherita. Tra risate e discussioni animate, cercano l'outfit perfetto, creando un ambiente di complicità e allegria. Di notte i cuochi si ritrovano a rivedere il menù dell'evento. Lope, con il volto corrucciato e un tono critico, rimprovera le loro scelte, suggerendo piatti più raffinati e sofisticati. La discussione cresce di intensità fino a quando Pia, con calma e determinazione, interviene per placare gli animi, mentre Lope, visibilmente contrariato e turbato, si allontana, mostrando segni di disagio e insoddisfazione. Maria Fernandez, con un'espressione preoccupata e un sussurro carico di tensione, confida a Ana di aver sentito parlare della separazione tra Manuel e Ximena. Maria suggerisce che Manuel potrebbe voler lasciare Ximena perché è innamorato di qualcun'altra, ma Ana, con un tono fermo e rassicurante, le risponde che quella storia è ormai finita e sepolta. Non perdetevi nemmeno un secondo di questa storia avvincente. Iscrivetevi subito al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle vicende di Manuel, Ximena e tutti gli aii, altri personaggi. Ogni momento è carico di emozioni e colpi di scena che non potete perdere. La Marchesa, nella sua camera da letto, è immersa nel compito di selezionare la musica per la festa. Le sue mani, nervose e tremanti, sfogliano i dischi, mentre il Marchese entra con un'espressione preoccupata e pesante. Lui le riferisce che Manuel ha deciso di mandare Ximena a casa dei suoi genitori per un po'. Cruz, con un'esplosione di rabbia e occhi incandescenti, si infuria, esprimendo la sua preoccupazione per l'opinione pubblica e la vergogna di aver abbandonato la moglie. Il Marchese cerca di calmare la situazione, spiegando che la separazione potrebbe aiutare Manuel e Ximena a riprendersi dalla tragedia. Tuttavia, la Marchesa, indifferente e inflessibile, rifiuta qualsiasi tentativo di conciliazione. Quando Cruz chiama Manuel, lui entra nella stanza con la vestaglia, visibilmente stanco e affaticato. La Marchesa, con una freddezza glaciale, chiede al marito di lasciarli soli. Alonso, con una nota di rassegnazione nella voce, avverte Manuel che aveva previsto questo momento di crisi. Manuel affronta sua madre, difendendo le sue scelte con passione e tensione, mentre lei lo rimprovera severamente, il volto segnato dall'ira. Alla fine, Manuel annuncia che discuteranno ulteriormente quando lei sarà più calma, lasciando la stanza con un'espressione risoluta ma stanca. Nel frattempo, Teresa, con un volto preoccupato e un tono di voce grave, racconta a Candela di come Ximena l'abbia trattata malamente, parlando in modo offensivo e chiedendole di comprare un costume sexy per attirare l'attenzione alla festa. Candela, con un'espressione di comprensione e preoccupazione, chiede a Teresa come si sente dopo la recente situazione con il maestro e Teresa risponde che ora sembra stare un po' meglio, sebbene l'angoscia sia ancora presente. Abel, con un sorriso soddisfatto e un'aria di complicità, informa Manuel che è ufficialmente il fidanzato di Hannah. Manuel, sorpreso, si blocca per un attimo ma poi sorride e, con sincero affetto, esprime la sua gioia per l'amico. Tuttavia, la sorpresa di Manuel cresce quando Abel, con un tono incerto, Gli, chiede se parteciperà al ballo in maschera organizzato da sua madre. Manuel, con una risposta secca e decisa, dice di no, lasciando Abel visibilmente sorpreso e confuso. Nel frattempo, Lope, dopo aver lavorato duramente, arriva a casa di Ramona in condizioni trasandate e sporche di terra. Sua sorella Hannah lo accoglie con preoccupazione, esortandolo a cambiarsi immediatamente per non attirare attenzioni indesiderate. I due discutono delle versioni identiche fornite dalla Marchesa e da Ramona, sospettando che entrambe stiano nascondendo la verità. In un'altra scena, Catalina, con uno sguardo supplicante e un tono implorante, chiede a suo padre di aiutare la zia Margarita con il lavoro, ma lui rifiuta, presentando una scusa banale. In realtà, Alonso è terrorizzato da Donia Cruz e teme le sue reazioni, non volendo rischiare di farla arrabbiare. La mattina successiva, la Marchesa, immersa nel compito di ricamare sul vestito rosso che indossava quando lasciò morire suo cognato Fernando, sembra persa nei suoi pensieri. Manuel, con un'espressione di sincera contrizione, si scusa per aver dubitato delle sue parole riguardo Ramona. La Marchesa, con una voce carica di emozione, lo perdona. Magali dice che il dolore che prova lo accompagnerà per molto tempo. Manuel, con uno sguardo determinato e una voce ferma, afferma che non gli importa dell'opinione pubblica sulla separazione da Ximena. Tuttavia, la Marchesa insiste che non devono prendere decisioni affrettate fino a dopo la festa in maschera. Nel frattempo, nell'ufficio del Marchese, Pelaio e Catalina sono immersi nella discussione riguardo l'affare delle marmellate. Catalina, con occhi che brillano di interesse e entusiasmo, ascolta attentamente mentre il conte riepiloga i conti dell'azienda. Quando la discussione termina, Catalina trova una scatoletta contenente una busta di denaro, scatenando una sorpresa e una serie di domande. Altrove, Romulo, con un'espressione grave e preoccupata, parla con Salvador riguardo i suoi pensieri sulla morte. Quando Salvador G.I. chiede se sta bene, Romulo minimizza la questione, ma il suo volto tradisce un'angoscia nascosta. Cosa pensate che succederà alla festa in maschera? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, mettere like e condividere le vostre opinioni. Siamo curiosi di sapere, secondo voi, Manuel e Ximena riusciranno a superare questa crisi o la separazione è inevitabile? Rispondete nei commenti e unitevi alla conversazione.